E da Vallelunga adesso una intervista veramente d'onore a lui, a Matteo Maluccelli, che veramente è stata una grandissima soddisfazione vederlo salire sul podio. Come hai vissuto questa gara, in assoluto asso di questa GT Cup? Raccontaci questi momenti, le emozioni che hai provato in questo campionato a Vallelunga. Beh, diciamo che è stata una gara un po' difficile perché all'inizio avevamo avuto problemi sul cambio, quindi sono subito alla partenza passato di dietro, però sapevo che avevamo la velocità per vincere, quindi sono stato calmo e siamo riusciti alla fine a vincere la categoria, ma non solo andare sul podio, addirittura assoluto, che credo non sia mai riuscito nessuno. Quindi con un po' di fortuna siamo anche riusciti a ottenere questo risultato. Visto che questa grinta ce l'hai nel DNA, visto che papà gareggiava in diverse categorie, ma la tua prima esperienza in una macchina, te la ricordi? Sì, me la ricordo, è stata con una formula, una formula con il motore Renault a 16 anni, 15 anni e mezzo. È stata una bella esperienza dopo tanti anni di kart e dal di lì poi ho cominciato tutto, insomma a 18 anni sono già passato alle GT e abbiamo fatto i campionati con le Ferrari. Ma quando tu non indossi più la tuta, chi è Matteo? Beh, come mi vedi, un ragazzo tranquillo, un ragazzo se vuoi sta anche un po' sulle sue, a cui non piace tanto fare confusione, insomma sta molto al suo posto e cerca di dimostrare quello che vale quando ne ha l'occasione.